Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi voglio proporti l'ascolto di un brano che riguarda la musica. È stato scritto da un musicista e divulgatore molto bravo inglese che si chiama Stephen Isserlis ed è tratto da un suo libro di divulgazione orientato, diciamo indirizzato in particolare ai ragazzi che si intitola Consigli ai giovani musicisti o regole di vita musicale di Robert Schumann. In questo libro, in questo breve libro, Isserlis ripassa alcuni degli aforismi, delle frasi più importanti di Robert Schumann destinate proprio ai ragazzi e le commenta ammodernandole, attualizzandole. Robert Schumann, se non sapete chi era, era uno dei più grandi, è uno dei più grandi musicisti della storia della musica, appartenente al periodo romantico nella sua maturità, ma nella sua musica si può sentire quanto novecento già ci sia. Ecco, Robert Schumann è stato anche un divulgatore, è stato un autore, uno scrittore ed è stato anche un musicista molto interessato ai giovani e questo libro ripercorre alcune delle sue frasi più significative che riguardano proprio i giovani, la musica, l'ascolto, la pratica musicale, l'esercizio musicale e la conoscenza della musica e quindi anche il senso della musica oltre l'aspetto meramente tecnico, performativo o pianistico. La citazione di Robert Schumann con il relativo commento di Steven Isserlis che ti vorrei leggere per intero è quella che apre tutto il libro, quindi possiamo dire così quella che stabilisce il senso, che indica la direzione, il senso di tutto il progetto di questo libro e riguarda l'importanza della musica. Prima ti leggo la citazione di Schumann da cui poi Isserlis distrae il suo commento. Dice Schumann da una libra di ferro che praticamente non costa nulla si possono ricavare un migliaio di molle per orologi che valgono una fortuna. Quella libra che hai ricevuto dal Signore va utilizzata con cura. Ti leggo il commento di Isserlis che è molto molto rivelatorio per la motivazione di oggi. Schumann, scrive Isserlis, per la verità non esordisce con questa perla, ma io sento che potrebbe essere un buon inizio. Tutti i bambini nascono senza senso della musica? Al contrario, io credo che ogni bimbo, se gliene viene data la possibilità, apprezza i ritmi divertenti e le melodie orecchiabili quasi dalla nascita. Per questo abbiamo le filastrocche. A partire da lì, tuttavia, il rapporto di ciascun bambino con la musica si sviluppa in maniera diversa. Purtroppo solo una piccola parte avrà la possibilità di studiarla in modo adeguato ed è un peccato, dal momento che i benefici di un'educazione musicale sono ormai chiaramente documentati. E di quelli che avranno la possibilità di studiare musica, solo pochi sceglieranno poi di farne la loro professione. Ma questo è un bene. Più che di esecutori, abbiamo bisogno di ascoltatori. Per quanto riguarda la libra di ferro che ci è stata consegnata. È innegabile che il Signore abbia dato ad alcuni individui maggior talento che ad altri. Ma questa non è una buona ragione perché i meno talentuosi si scoraggino. In realtà, il talento può rappresentare persino un pericolo. Troppi giovani musicisti abusano delle doti che hanno ricevuto in dono, invece di utilizzarle con cura. Alcuni di loro, a cui tutto riesce fin troppo facile, rischiano di impigrirsi e di diventare interpreti superficiali. Mentre chi deve lavorare con maggiore impegno finisce spesso per ottenere i risultati più interessanti. A quelli che hanno la sensazione di non avere davvero nessun talento per suonare o per cantare, dico non mollate. Più vi impegnerete con la musica a qualsiasi livello, meglio la comprenderete e più la comprenderete più ne trarrete beneficio. La speranza è che i vostri studi vi trasmettano quell'amore per la musica che arricchirà la vostra vita, tutta la vostra vita. Sono parole molto semplici, molto chiare, molto dirette che riguardano la musica, certo, ma come hai sentito che possono essere applicate a tutto, oltre alla musica. Io vorrei però soprattutto soffermarmi qui sulla parte dell'ascolto. Quel passaggio che dice che più che di buoni esecutori abbiamo bisogno di buoni ascoltatori. La musica si fa con l'ascolto. Più ascolti, più affinito ascolto, più conosci la musica, più entri nella musica. Oggi tutti cantano, oggi tutti suonano, ma nessuno ascolta la musica o pochi ascoltano la musica. La musica oggi è diventata un mezzo semplicemente per arrivare a un successo che appare immediato, che appare così rapido perché non necessita di studio, di approfondimento. Ci sono le basi e sembra che basti che su quelle basi cinguetti qualche cosa in una vaga rima che hai fatto un pezzo musicale. Ma non è così. Non è così per tutto il resto. Questo è uno degli aspetti correlato alla importanza di imparare ad ascoltare, perché imparare ad ascoltare significa approfondire, significa mettersi lì e studiare. Se si vuole approfondire vuol dire conoscere, entrare nelle cose, entrare nei meccanismi, entrare in profondità anche negli aspetti tecnici. È qualcosa, questo che oggi sembra completamente dimenticato, ignorato. Grazie a probabilmente questa tecnologia dell'io, del selfie, che illude che tutto sia raggiunto subito, in maniera veramente distorta, a nessuno sembra più importante il fatto che bisogna conoscere tecnicamente le cose. Ma il problema è che oggi ci sono tecnologie sempre più complicate, non complesse, complicate. E per usarle al meglio vanno conosciute. Ecco, per conoscerle bisogna approfondirle, bisogna studiare, bisogna avere pazienza di proseguire giorno per giorno nell'approfondimento. questo è il cuore del pensiero di Isserlis di oggi e anche del pensiero di Schumann. La qualità della propria vita, nel nostro caso la qualità del proprio ascolto, è determinata dalla qualità del lavoro che compiamo ogni giorno. E allora per restare nella nostra metafora musicale, non accontentarti dei suoni che hai intorno. Ascolta la tua musica. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani, per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. 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 Grazie a tutti.